Buon pomeriggio a te la cannesia dal vostro speciale di ventino pazzo Mamma mamma che caldo si sta squagliando Caldo si sta morendo a casa della mestina Saranno penso 35 gradi 36 gradi Forza puttana Mi lamentavo quando pioveva Mi lamento quando pioveva Guarda la giornata che mi devo lamentare tutti i giorni Comunque parliamo un po' di mercato, un po' di mondiale E un po' di calcio vai Cosa pensate di questi mondiali di calcio? Se gli dareste un voto alla prima fase di qualificazione quanto gli dareste? Dai Non ci sono state Si 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 Ho detto prima L'eliminazione della Germania Mi si guarda che dovevano passare Sono passate Anche con fatica Però non mi sta piacendo La vera questo mondiale Che è Senegal Credo che merita più del Giappone di passare Una cosa positiva Che mi è piaciuta E' stato il primo gol del Panama E tutta l'esultanza dei giocatori Dei tifosi del Panama Anche se stavano perdendo con l'Inghilterra Ma sembra 5-0 Ma hanno fatto il 5-1 Hanno esultato lo stesso E hanno gridato Cioè quella diciamo Nelle piccole cose C'era il velo del calcio Cazzo risultano Dopo che stavano E' spesso E' massacrato Diciamo La Tunisia Ha fatto un calcio di niente L'Arabia Saudita Ha giochicchiato Ha deluso Credo L'Egitto Ha deluso Credo Che l'Egitto Poteva Passare La fase Gironi Però Beh Ci sono una peccata C'è una In mente La Svizzera Non credevo proprio La Svizzera sinceramente Che arrivava Agli Ottavi Come non credevo Neanche che arrivava A Danimarca Onestamente Ah Sempre C'era Credevo Si qualificava L'Egitto Credevo Che l'Egitto Passava Grazie Ma Sì Noi Sì Sì Però La costa La Che elimina Fai eliminare La Germania Quella è stata una Stragoturia Vedere la Germania Uscire Ma Mentre la Germania Uscita Oggi Non so Per chi li fa E fa Francia E Argentina Perché la Francia Come si sa È la prima Rivale Del nostro Campionato Dell'Italia La Francia Sempre E l'Agentina Non si può Ti fare Perché c'è Diego Armando Maratona No mamma Madonna mia Non Non Ho tutto rispetto Lo ripeto sempre In questa fase Maratona Era un giocatore Fortissimo Maratona Ma come Come persona Non serve Maratona Come si può Osannare Un giocatore Come Maratona Non Posso dire Quello che penso Perché sennò Mi blocco Molero il video Dai Non Spero Non se la prendano Gli amici miei del Napoli Però Ripeto Ho detto Prima Maratona E' uno dei giocatori Più forti del mondo E' stato Uno dei giocatori Più forti del mondo Insieme a Pelé Pratini Bambassen Hanno fatto l'epoca Però Ragazzi Come potete Rispettare Come essere umani Io dico Come essere umani Sbaglio Ditemi la vostra Come essere umani Non si può Mai Dire che Maratona È una persona civile Vedete Bravi Ditemi la vostra Quello che pensate Ok È di demiguiti Gente alla francesa Gente Ciao ciao